Buongiorno ragazzi e ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Allora, la prima cosa volevo chiedervi scusa che sono un po' assente sul canale perché come alcuni lo sanno già sono in vacanza in Romania e quindi tornerò diciamo più attiva da settembre e tutta l'estate rimango qui e quindi chiedo scusa che non riesco a girare, a fare i tutorial però cercherò di essere più attiva da settembre quando torno. Allora, ovviamente quando si va in un paese diverso cioè quando si va in vacanza, quando si va in un altro paese ovviamente noi creative cerchiamo, cosa cerchiamo? I negozi di perline. Beh, ovviamente questa è stata la prima cosa che ho cercato e ho spulciato un po' tutti i negozi online per vedere cosa c'è, come sono i prezzi e ovviamente tra tutti quelli che ho cercato uno è stato molto conveniente quindi ho fatto un bello ordine mi sono fatta una bella scorta di Rockail e ho preso anche qualche bustina di altre perline Allora, cosa vi posso dire? Sì, ci sono negozi magari che fanno anche spedizione all'estero però io sinceramente non li ho trovati quindi ho contattato i proprietari dei negozi ho parlato e nessuno spediva all'estero tramite questo che ho preso adesso che ho fatto l'ordine e ovviamente sul sito quando si fa registrare e quando si fa un ordine non ti fa scegliere un altro paese che la Romania e poi ho contattato il proprietario ho parlato e gli ho chiesto se poteva fare spedizione all'estero perché a me sinceramente mi conviene i prezzi delle perline sono molto convenienti e quindi il proprietario ha detto che se si mette d'accordo in privato, si chiama il proprietario si mette d'accordo con la spedizione si può anche spedire all'estero ovviamente non so i paesi sinceramente dove può spedire ma io ho parlato per l'Italia quindi per l'Italia si può spedire si contatta in privato il proprietario c'è il numero di telefono e la spedizione arriva intorno ai 13-15 euro che secondo me non è neanche tanto va bene è un prezzo giusto diciamo per la spedizione niente, inizio a mostrarvi le perline perché sono veramente tante quindi non so quanto durerà il video spero non tanto perché non non voglio fare un video di un'ora che nessuno lo guarderà bene, iniziamo una cosa che volevo precisare è che sono molto seri e dopo sinceramente non mi ricordo dopo sopra a quale costo la spedizione è gratuita però sinceramente non mi ricordo sopra i quanto ecco vabbè avete capito e comunque i prezzi sono nella nostra moneta nazionale che sono i lei oppure i ron prima erano i lei adesso sono trasformati in ron però come vedete anche qui ci sono ancora le scritte con la moneta vecchia però è sempre la stessa poi cosa vi volevo dire sì vabbè questa è la fattura ovviamente con tutti i nomi tutti i grammi il prezzo tutto quanto sono stati molto veloci perché io comunque l'ordine l'ho fatto domenica molto tardi sulla serata però molto tardi e lunedì mattina il proprietario mi ha contattata per dirmi che il pacco era pronto che lo spediva infatti il giorno dopo l'ho ricevuto quindi proprio se si fa per esempio in un giorno della settimana l'ordine il giorno dopo arriva a casa per chi in Romania ovviamente poi all'estero non so niente iniziamo a mostrarvi inizio a mostrarvi le cose allora come prima cosa volevo provare il filo il filo esselon e quindi l'ho preso bianco e nero non so io non l'ho mai acquistato questo però l'etichetta non c'è quindi non so se si vende così non mi ricordo non mi ricordo non l'ho mai acquistato quindi non lo so quindi ho preso il bianco e il nero poi qui dentro ci sono gli aghi che vabbè non li tiro più fuori ho preso i aghi John James numero 12 e numero 10 corto il lago corto poi qui ho preso dei moschettoni placati in oro che infatti sono perfetti veramente sono perfetti poi allora vediamo ecco li metto qui che sono veramente tantissimi e poi iniziamo con ecco dovete avere un po' di pazienza perché sulla bustina non c'è scritto sì vabbè magari l'inizio della colorazione però non c'è scritto la colorazione di niente proprio di tutte le perline c'è l'etichetta ma la colorazione no quindi dovete avere un po' di pazienza perché io mano a mano che prendo le bustine devo guardare sulla fattura che colore è per dirvelo quindi queste sono le bricks che il colore è vediamo dove sono le bricks sunflower yellow picasso che sono veramente molto belle sono proprio stupende infatti le voglio provare poi ho preso le candy allora le candy come vedete qui sono i pezzi quindi sono 30 pezzi per 6,30 ron che vuol dire in euro tipo 1,50 euro sì 1,50 euro intorno di 1,50 euro e sono 30 pezzi che ho preso questo colore che però non so come mai ma in questa camera si vede bruttissimo che sono le opaque purple che sono un un viola però non so perché le fa vedere così brutte vediamo un po' allora sì ho messo un po' in pausa ho pulito la camera però a quanto pare è la luce nonostante sono fuori comunque la luce naturale però vabbè ok queste sono le candy poi ho preso altre candy che queste sono le classiche jet quelle nere poi ho preso queste rosse queste sono costate di meno tipo un euro non saprei un euro e 20 centesimi una roba così 30 pezzi questo rosso poi ho preso per provare le chili che sono 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 a quanto pare il prezzo non so se sia questo o questo non lo so sono 30 pezzi qui sarebbero 80 centesimi qui invece 50 centesimi quindi non non so quale sia il prezzo giusto perché vedo che c'è scritto a mano quindi non lo so ho preso il classico jet poi 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 o iniziamo con scusate mi era venuta una crisi di tosse allora iniziamo direi con i mezzi cristalli ho preso dei mezzi cristalli da 3 mm che poi sono 80 pezzi e costano intorno ai 50 centesimi questi sono da 3 mm e questa colorazione è Saturated Metallic Shaded Sprouse una colorazione veramente stupenda ma veramente bella bella ok poi ho preso questo qui che è un verde però la colorazione Saturated Metallic Kale vabbè hanno di nomi un po' strani però come colore è bellissimo poi ho preso questo giallo sicuramente io levo qualcosa non mi ricordo poi ho preso questo che è bronze 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 cosa bronze matte metallic cast gold ok poi ho preso anche vediamo un po' scusate forse l'emozione quindi sono un po' ho preso questi mezzi cristalli che questi sono da 4 mm sono 60 pezzi intorno ai 50 centesimi ho preso questo bianco questo blu che è veramente stupendo questo è il classico nero il jet poi questo qui poi ho preso questo più più chiaro che è milky milky qualcosa poi questo qui anche qui molto molto bello anche questo ho preso varie sfumature di verde e di blu poi questo che sinceramente non saprei che colore sia però è molto bello è tra un turchese verde una roba del genere poi ho preso il classico giallo e questo color pesca eccomi allora continuo con la crisi di tosse non so come mai ho preso due bustine di gem duo perché mi piacevano tanto questi colori la quantità è 5 grammi e in soldi verrebbero in euro sarebbero 1 euro e 10 centesimi più o meno 5 grammi di gem duo che ho preso queste due colorazioni forse è meglio che vi faccio solo vedere le bustine le colorazioni così non ve le dico perché devo cercarli sulla fattura e ci metto una vita quindi se avete bisogno poi comunque qui ci sono i codici sopra la bustina quindi ok poi ho preso le honeycomb honeycomb non so come si pronuncia insomma avete capito che sono 24 pezzi 6,35 che sarebbero 1 euro 1 euro e mezzo 1 euro e 50 più o meno poi ho preso le mino sparpuca le mino sparpuca sono 5 grammi bustine di 5 grammi e sono sempre 1 euro 50 a bustina quindi secondo me sono convenienti 5 grammi 1 euro 50 penso di sì ecco ho preso queste 4 che questo è un un viola un un lilla una roba così molto chiaro poi ho preso questo sul blu metallic blu qualcosa poi ho preso questo anche se questo ce l'avevo non so perché l'ho preso e poi il classico bianco poi ho preso per provare non so se ci sono anche in italia non ci ho mai fatto caso non le ho mai prese sono le miyuki paglio si chiama qua tipo un paglio non saprei come spiegarvi che sono dalla miyuki sono questi bastoncini come vi spiego girati intorno tipo una spirale una non saprei come spiegarvi forse ci sono anche in italia però io non ci ho mai fatto caso che hanno le misure dove sono le misure due per dodici millimetri sono dieci grammi e un euro quindi non so qualcosa mi inventerò poi ho preso le nibbit che secondo me sono molto convenienti cinque grammi un euro ma forse neanche un euro novanta centesimi novanta qualcosa questa colorazione qui sul rosa poi il classico nero che costa cinquanta centesimi poi il grigio questo silver che è anche questo sui sessanta centesimi poi ho preso questo blu che mi piace tantissimo che anche questo è intorno ai settanta centesimi questo che è un blu più scuro e anche questo lo stesso prezzo poi ho preso questo verde verde acqua verde non so cosa che è molto molto bello e il rosso quindi questi veramente sono convenienti secondo me poi ho preso le aiuto ecco ce l'ho fatta ho preso le pellet le pellet queste qua che le adoro veramente sono fantastiche guardate un po' che sono picasso o qualcosa sicuramente però non ricordo comunque se avete bisogno questo è il codice così vi faccio vedere tutti i codici se li volete cercare sono veramente belli 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 ah e anche questi il prezzo sarebbero 90 centesimi 30 pezzi qui ovviamente sempre 30 pezzi questo costa di meno 80 centesimi che è un color crema ivory qualcosa poi ho preso questo sul viola sul lila anche questo 80 centesimi questo poi turchese il turchese è un euro 1 euro e 5 centesimi 30 pezzi bellissimi colori veramente poi ho preso due colorazioni di rula non le avevo mai acquistate non le ho mai provate quindi volevo provarle ho preso il bianco e questo verde acqua luster qualcosa anche qui la bustina è di 5 grammi e 50 centesimi una roba così 50 centesimi 55 sì poi anche queste non le ho mai prese non le ho mai acquistate non le ho mai usate quindi le volevo provare le spikes e qui sono questa colorazione è una lilla e questo è un bianco panna e anche qui sono 20 pezzi 95 centesimi questo qui invece 80 centesimi 20 pezzi quindi su questo non so dirvi se i prezzi sono buoni o no perché non le ho mai acquistate però le volevo provare poi ho preso delle perline in vetro piccoline piccoline piccine piccine quindi queste sono da 2 mm che ho preso questo blu scuro e questo bronzo che sono 120 pezzi e vengono 80 centesimi 80 e qualcosa quindi secondo me va bene poi ho preso anche da 3 mm sempre perline in vetro perline cieche queste da 3 mm sono vendute in bustine da 80 pezzi che anche queste vengono intorno a 80 centesimi che ho preso questo rosso questo bordeaux sì poi ho preso questo verde che è veramente bellissimo questo verde mi fa pensare a Natale poi ho preso questo che non non so cosa sia un marroncino chiaro e questo blu scuro che i prezzi sono più o meno uguali sì dappertutto quindi tipo i 80 centesimi allora poi ho preso le vediamo se sì ho preso le super cheops parpuca che qui vengono vendute in bustine da 5 grammi e costano 1 euro 50 che ho preso questa colorazione qui poi ho preso questa che è sempre una colorazione tipo picasso quindi molto bella ceramic look qualcosa ecco ne avevo prese due bene poi questo che è il classico gold luster una roba così e il bianco di bianco non le avevo mai prese ok queste sono le super cheops adesso iniziamo con le super duo allora vediamo un po' ecco qua di super duo ho preso il classico bianco che avevo preso due bustine perché le avevo finite poi questo che è un antique bronze mi sembra poi ho preso queste sul rosa un rosa molto chiaro un rosa antico queste le classiche nere le classiche jet poi ho preso questo che è un verde molto intenso e molto bello ah le super duo non vi avevo detto sono 5 grammi e sono tipo 80 centesimi sì 70 è qualcosa 80 centesimi poi questo qua ho preso vedete che comunque i prezzi sono diversi per esempio questo costa 3,50 che sono meno di 80 centesimi poi questo qui sempre in 5 grammi che ha una colorazione stupenda ecco con questi schizzi se possiamo dire così quindi sono veramente fantastiche queste perline le ho pagate anche poco tipo 55 centesimi 5 grammi quindi sono molto belle poi ho preso questa che anche questa è una colorazione sì allora questa era sull'arancione le sfumature sono sull'arancione invece questa qui sul rosso un rosso scuro che anche questa l'ho pagata 60 centesimi più o meno quindi secondo me convenienti poi ho preso questo verde oliva che è molto bello anche questo tipo 70 centesimi poi ho preso questo turchese che li sto per finire poi questo qui che è un colore non saprei un verde scuro sì una roba così tipo sì poi ho preso il giallo il rosso questo qui che è anche questo un po' sul verde sul blu e questo che è sul blu che io c'ho anche le paisley in questa colorazione non vedo l'ora di provarle insieme alle paisley che sono veramente bellissime non so il colore non me lo ricordo però comunque se le paisley così poi ho preso una bustina di tila per provarle anzi no le avevo già provate sì mi sa di sì vabbè anche queste sono 20 pezzi e vengono tipo quanto vengono 60 centesimi 65 centesimi 20 pezzi bene poi adesso iniziamo con le rocaille sì abbiamo finito adesso iniziamo con le rocaille allora queste sono le 15 zero che le ho prese sono le bianche le classiche bianche che sono bustine da 10 grammi e vengono un euro quindi ho preso il bianco poi questo azzurro turquoise blu turquoise una roba così anche questa un euro sì mi sa che tutti sono un euro sì e poi ho preso questo verde bellissimo ecco queste per esempio vengono un euro e 10 centesimi costano un pochino di più anche queste che sono bellissime sono molto belle sono le rainbow qualcosa anche queste costano poco più di un euro poi ho preso questo verde opaco e comunque come colorazione è molto bella non so se si vede bene però è molto molto bello colore matt ok poi iniziamo oddio siamo a 20 minuti non ci posso credere allora vi mostro velocemente perché non c'ho più memoria allora queste sono le 8 zero che sono vendute in bustine da 20 grammi e costano un euro quindi 20 grammi un euro 20 grammi di perline di 8 zero che ho preso questo silver qualcosa poi ho preso il classico bianco di 8 zero questo qua che è un tipo dio aiuto la zucca color zucca poi il classico azzurro che lo amo poi questo qui che è cornflower qualcosa poi questo qui che è sicuramente un terracotta mi ricordo ancora qualche nome poi questo verde che anche questo è bellissimo poi questo blu blu nevi se non mi sbaglio poi questo colorazione di blu si capisce mi piace il blu no per niente poi ho preso questo che è ivory qualcosa e questo milky green più o meno così sono ho preso le 11 zero ma veramente ne ho prese tante quindi questo qui poi questo che sembra uguale al primo ma non lo è il classico bianco questo che è un beige ivory qualcosa a po' color panna poi questo verde poi di 11 ho preso anche questo che è più chiaro dell'altro questo qui poi questo rosa che è veramente bello e le solite galvanizzate starlight e aluminium queste servono sempre poi ho preso questo blu scuro questo crystal che sta per finire questo qui sul blu questo giallo poi questo qui che è un color terracotta questo che è un altro tipo di verde ho preso varie sfumature di verde poi questo qui che è un blu il classico turchese e questo che è metallic nebula e penso di aver finito sì nonostante questo mi ha mandato anche una bustina di omaggi che sono le lentil che non le ho mai usate quindi spero che il video vi sia piaciuto è lunghissimo lo so chiedo scusa e comunque il sito lo trovate si chiama si mi sono anche dimenticata sophieshine.ro se volete fare dei acquisti ve lo consiglio perché è veramente economico è molto conveniente bene vi saluto un bacio e alla prossima ciao ciao ciao